Mancano poche ore all'ufficializzazione delle candidature per le elezioni regionali in programma il prossimo 25 settembre, lo stesso giorno nel quale i cittadini saranno chiamati anche a rinnovare Camera e Senato. E se per il Parlamento nazionale le candidature sono state già ampiamente definite, entro domani bisognerà depositare le liste che concorreranno al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Ci sono ancora dei dubbi in ordine alla definizione ufficiale dei nomi, soprattutto di quelli che ambiscono ad un ruolo parlamentare e questo lascia capire come ci sia tuttora ancora molta fibrillazione tra i dirigenti di partiti e persone che hanno dato la propria disponibilità di massima, le quali dunque sono alla vigilia della formalizzazione con la necessaria accettazione della propria candidatura. Al momento continua ad essere accreditata l'ipotesi che la città di Sciacca si presenta a queste consultazioni con cinque candidati pronti a tentare la scalata a Palazzo dei Normanni. Due di loro sono deputati uscenti, segnatamente Michele Catanzaro, Partito Democratico, e Matteo Mangiacavallo. Quest'ultimo correrà come il nostro telegiornale è ampiamente anticipato la scorsa settimana con Fratelli d'Italia, ma a tentare l'elezione a Sala d'Ercole dovrebbero essere anche in ordine alfabetico Fabrizio Di Paola, per il terzo polo Calenda Renzi, Anzione Italia Viva, Giuseppe Montalbano, lista 100 passi con Claudio Fava e Salvatore Monte, sindaco di Sicilia, Cateno De Luca. Il nome più sicuro al momento è quello dell'ex assessore al turismo, che da mesi ha dato la propria disponibilità nei confronti dell'ex primo cittadino di Messina a scendere in campo. Il tema centrale della contesa riguarda la necessità che le liste per poter concorrere all'attribuzione dei seggi oltrepassino la soglia di sbarramento necessaria del 5%, un obiettivo il cui raggiungimento incide fatalmente sull'orientamento stesso di chi è pronto a mettersi in gioco e per il quale bisogna tenere presenti variabili che sono diverse, non solo quelle riguardanti il collegio nel quale ci si candida, che corrisponde al territorio provinciale, ma anche quelle successive che, nella definizione finale della lista degli eletti, vedrà entrare in gioco anche i risultati delle liste e anche negli altri otto collegi elettorali. La provincia di Agrigento legge certamente sei deputati regionali ulteriori candidati aggrigentini possono entrare a Sala d'Ercole solo grazie alla dimensione degli eventuali resti nelle altre province, ovvero, come è accaduto cinque anni fa, con l'ingresso attraverso il listino del candidato presidente vincitore. Nella Agrigentino si ricandidano tutti gli uscenti, oltre ai già citati Catanzare e Mangiacavallo, ci sono anche Giussi Savarino, anche lei con Fratelli d'Italia, Riccardo Gallo e Margherita Larrocca Ruvolo con Forza Italia, Carmelo Pullara con la lista leghista di Prima l'Italia, Roberto Di Mauro con la lista autonomista e Giovanni Di Caro con il Movimento 5 Stelle. Nelle nostre zone si candida certamente anche Carmelo Pace, ex sindaco di Ribera, che ha già fatto stampare i propri volantini. Rappresenterà la debuttante lista della nuova democrazia cristiana, quella fondata dall'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro. Si candida all'arse anche, sempre in Fratelli d'Italia, l'assessore dell'Aggiunta guidata da Matteo Ruvolo, Giovanni Di Caro, omonimo del parlamentare Pentastellato, sembra ormai definita, infine, la lista dei candidati alla presidenza. Non dovrebbero esserci più dubbi che si tratterà di Gata Normao, in rappresentanza del terzo polo Calenda Renzi, di Caterina Chinnici per il centrosinistra, di Nuccio Di Paola per il Movimento 5 Stelle, di Cateno De Luca, indipendente, e di Renato Schifani per il centrodestra. Grazie. 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 Grazie.